Una proposta indecente e pericolosa, quella contenuta nel DPR 146 sul finanziamento statale alle tv locali, una norma introdotta dal governo Gentiloni e ora inserita nel decreto mille proroghe per volontà del governo Lega Movimento 5 Stelle che, se approvata dal Parlamento, di fatto, determinerebbe la chiusura di una settantina di emittenti locali esclusi dai benefici e dislocati in tutte le regioni. La conseguenza inevitabile sarebbe la perdita di centinaia di posti di lavoro per giornalisti, tecnici e personale amministrativo, nonché la negazione del pluralismo dell'informazione nelle regioni con meno di due milioni di residenti. Sulla grave questione è intervenuto a muso duro il presidente di Asso Stampa Molise, Giuseppe Di Pietro. Questa idea che la democrazia dell'informazione, che il pluralismo dell'informazione debba venire attraverso dei bacini pluriregionali è stucchevole, è una cosa che è inconcepibile e quindi noi invece rivendichiamo che le risorse pubbliche vadano invece ripartite a livello regionale. C'è anche un rischio occupazione per giornalisti, tecnici e personale amministrativo di questi emittenti? Senza dubbio, noi quello che vogliamo evidenziare è che si parla di circa una settantina di emittenti con un'occupazione presunta, ma insomma calcolabile, in almeno 400-500 persone dirette più tutto quello che ne deriva con l'indotto. Questo è un punto di domanda alla classe dirigente che deve dare una risposta, anche perché non è naturale, anzi assolutamente il contrario, che le risorse sottratte a questi emittenti vadano poi a incrementare occupazione in altre regioni, in altri emittenti. Questo non sarà mai. Secondo questo provvedimento le regioni piccole di fatto devono morire, non devono informare perché si parla di regioni con oltre 2 milioni di abitanti. Sì, ma questa filosofia per cui chi è più forte, chi ha più massa critica vince o prende tutto, deve secondo me essere abbandonata. Qui non si chiede l'elemosina per, in questo caso, per il settore dell'informazione. Deve dare un'attenzione specifica e puntuale anche per le regioni che meritano e quindi in questo caso parliamo di quelle meno popolose. Perché una televisione, in questo caso potrebbe essere Termonisio o tante altre, con immagino 30-40 dipendenti debbano ricevere un decimo, un ventesimo, un trentesimo della televisione toscana che magari ha solo 3 o 4 dipendenti. Questa è una cosa inaccettabile, proprio sul punto di principio. A Sostampa che farà per lottare contro questo provvedimento iniquo? Coinvolgerete anche le istituzioni locali, la regione? Ieri abbiamo lanciato questo grido d'allarme che io voglio augurarmi venga ripreso dalle istituzioni territoriali. Io credo che regione e qualsiasi altro componente di un'assise pubblica debba davvero mobilitarsi per quello che è un'emergenza democratica. Perché io non penso che far sparire le voci private, delle tv private, in un contesto come il nostro, si avvantaggi il territorio. Anzi, io credo che sarebbe una penalizzazione che procurerà soltanto danni. Noi, ecco, alla ripresa dell'attività, noi ci mobiliteremo, chiameremo a raccolta la delegazione parlamentare. Perché è, come dire, soprattutto compito loro far emergere questa discresia a livello nazionale. Poi il Consiglio regionale, la Giunta e tutte le istituzioni, le forze sociali. Perché anche altri sindacati di altre categorie credo che debbano allarmarsi per una prospettiva simile. Ora attendiamo un segnale forte anche dalle istituzioni locali, regioni, province e comuni, dai sindacati, dalle diverse associazioni e dalle delegazioni parlamentari contro l'oligopolio dell'informazione televisiva.